ciao a tutti amici amiche di quinta dimensione letture bentornati e benvenuti ai nuovi e chi mi ascolta per la prima volta ti invito a iscriverti al mio canale e attivare la campanellina oggi andiamo con un video di solo spiegazione quindi vediamo queste queste stupende forme della geometria sacra che sono le genese e le pentasfere come si attivano a che cosa servono e quali utilizzi ne possiamo fare allora qui davanti a me come vedete che neanche c'entrano devo dire specialmente lei che è molto grande le ho messe qua giusto per insomma farvi vedere un po come funzionano le diverse grandezze materiali quindi materiali migliori si dice siano comunque l'alluminio e il rame però insomma nessuno dice che ecco diciamo che se magari avete una pentasfera che ne so di ottone o di un altro materiale non funzioni le più usate comunque comunemente acquistate usate sono di alluminio che sia esso lucido o satinato e il rame ok poi potete anche non ce l'ho qui adesso perché ce l'ho da un'altra parte allora sia le genese che le pentasfere possono essere anche a cerchi di più colori quindi magari che ne so questo cerchio giallo questo cerchio verde un cerchio nero eccetera eccetera uno bianco e così sfrutta anche diciamo l'energia dei colori no e il significato appunto dei colori potete farvele le potete anche commissionare se conoscete chi le fa e chiedervi chiedergli se ve le fa nei colori a voi più consoni che avete scelto che avete studiato avete meditato su quei colori sapete che hanno una certa funzione per voi e via dicendo quindi potete anche commissionare le colorate allora come vedete questa è appunto una genesa crystal di alluminio satinato e a quattro cerchi così come la genesa più piccolina allora questa è da 24 cm ok questa è una genesa da 16 cm e questa è una pentasfera da 30 cm iniziamo con la genesa e vediamo un po' la genesa mi sono preparata i miei appunti allora che ho i miei personali per voi leggiamo un po' la genesa quindi è un dispositivo organico un modello archetipo di geometria sacra come vi dicevo prima e l'organimia è appunto una scienza che studia l'energia cosmica primordiale va bene è un cubo sferico ottaedro un poliedro con quattordici facce di cui sei quadrati e otto triangoli e contiene in sé tutti e cinque i solidi platonici il tetraedo il cubo l'ottaedro l'icosaedro e il dodecaedro forme che sono i mattoni di tutta la vita organica allora cosa fa il genesa crystal è in grado di correggere gli effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico favorisce la meditazione e l'armonizzazione del campo energetico va bene fu sviluppata dal dottor derald langham negli anni 50 proprio perché un genetista agricolo americano allora gli chiedeva insomma delle cose dei consigli per far prosperare la vegetazione parliamo del sud america dell'area del sud america e insomma hanno sviluppato il dottor langham questo tipo di geometria e se visto leggetevi anche il libro findorn se qualcuno non ha mai sentito parlare di questo orto miracoloso di findorn dove crescono degli ortaggi delle verdure magnifici grandi insomma leggete trovate anche su internet è vecchio come libro però l'avranno sicuramente ristampato credo sia negli anni 90 e appunto si parla di findorn praticamente funziona moltissimo anche nel giardino ok protegge le piante le vegetazioni se avete un orto dove dovete far crescere delle cose che piantate voi eccetera poi allora andiamo avanti allora la forma ragazzi è proprio come vi dicevo ha dei lati triangolari e dei lati quadrati e appunto ogni lato ha diciamo una funzione e quanto copre il raggio allora il raggio dunque 16 centimetri diciamo che questa qui la quella diciamo di media ok media grandezza copre circa 500 metri va bene chiaramente più andiamo su più andiamo a coprire quindi anche un chilometro e mezzo due per quella di 24 centimetri e addirittura la pentasfera copre proprio tantissimo molto di più adesso ve lo trovo proprio nello specifico e me lo ricordo io a mente però ce l'ho scritto anche da qualche parte ma le mie i miei appunti le cose che io scrivo i miei studi sono tantissimi quindi andali proprio a trovare insomma ogni ognuno ci vuole parecchio allora andiamo a vedere ancora dicevamo appunto che è la geometria sacra allora vediamo un po adesso la differenza tra la genesa della pentasfera che la genesa ha quattro cerchi la pentasfera è un'evoluzione della genesa ok che è di sei cerchi siccome stiamo parlando di ancora della genesa vi voglio far vedere anche le genesine dette genesine guardate qua questa è una genesina piccolina eccola qua grigia all'interno c'è un quarzo rosa vedete il quarzo rosa che pendola eccolo qui c'è il quarzo rosa che pendoli per esempio ne ho una in macchina davanti lo specchietto perché protegge comunque anche l'automobile e per l'abitacolo va benissimo come grandezza poi c'è questa qua anche viola con dentro ho fatto mettere questo lo commissionate io ho fatto mettere il quarzo ialino dentro la viola poi la potete far fare blu la potete far fare gialla nera come volete voi sono molto carina anche da portare addosso vi ripuliscono laura vi proteggono vi proteggono assolutamente migliorano l'energia del vostro ambiente se andate a lavorare ce l'avete al collo oppure mettetela dove volete dentro un cassetto sopra la scrivania sono anche belle da vedere ragazzi guardate che spettacolo anche da vedere sono bellissime devo dire allora quindi queste sono le genesine e dentro ora lasciate vuote o dentro potete anche farci mettere da chi vi fa la genesa anche una pietra ok quindi andiamo anche a fare la cristalloterapia eventualmente allora quando vi arriva cosa fare quindi passiamo alla fase attivazione l'attivazione della genesa crystal allora la genesa crystal sposto questa e prendo quest'altra perché per una questione di spazio allora la genesa crystal la dovete quando vi arriva aprire voi il pacco lo dovete aprire voi chi ha commissionato ok la genesa crystal a un venditore se la deve aprire se la deve prendere perché è tua personale poi vi spiegherò funzionerà per tutti quelli che sono nella vostra casa ma è la vostra ok quindi qui la genesa la prendete aprite il pacco la prendete la toccate tra le mani potete anche mettere nella mano sinistra il lato triangolo una mano qua nella parte destra l'altra mano sul lato quadrato quindi sinistra triangolo destro quadrato così e la tenete va bene tanto c'è da attivarla ragazzi mentre la tenete ci giocherellate mettetela anche vicino al chakra del cuore perché la genesa lavora molto sul quarto chakra il chakra del cuore è proprio una connessione profonda va bene quindi quando ce l'avete mettetevela sul petto sedetevi magari piedi ben poggiati a terra schiena diritta ok la tenete all'altezza del chakra del cuore e cominciate a chiedergli come si chiama come vuole essere chiamata che nome hai che nome vuoi la genesa diciamo deve avere un nome e glielo deve dare chi l'ha commissionata chi l'ha comprata va bene quindi la primo passo è questo dell'attivazione quindi chi la compra la tira fuori dal pacco ci giocherella giocherellateci giratela giratela in tutti i lati in tutti i modi ok se volete qualcuno se qualcuno vuole lato sinistro mano sinistra sul lato triangolo mano destra sul lato quadrato bene dopo che ci avete giocherellato chiaramente la sua posizione naturale quando sta in casa e non la toccate non ci fate niente è il lato quadrato va bene la posizione naturale della genesa è il lato quadrato quindi quando la posizionate in casa la dovete mettere sul lato quadrato allora dicevamo dell'attivazione quindi l'attivazione praticamente questa ragazzi chi ci vuole ci può fare una meditazione che ho anche qua ve la posso illustrare ma non è obbligatoria la genesa va attivata con le mani e come vi ho spiegato adesso però chi vuole può dire anche diciamo una una meditazione che è quella di visualizzare comunque una luce viola ok che si sviluppa da dentro la genesa e permea vi praticamente irradia questa luce irradia tutto il vostro corpo ok passa attraverso il vostro corpo e ritorna in genesa quindi dalla genesa a voi e ritorna in genesa potete fare anche questo tipo di meditazione la genesa lavora benissimo con qualsiasi cosa con tutti i cristalli e specialmente con l'ametista l'ametista è fortissima specialmente una drusa va bene abbinata alla genesa è utile per armonizzare le energie e per ripulire i cristalli oggetti metallici anche come gli anelli bracciali orologi eccetera che sono di solito molto accumulatore di energie negative e vi protegge appunto da ogni tipo di negatività e offre anche uno scudo va bene mi fa anche da scudo allora volendo ci sono anche delle frasi volendo per attivare la genesa potete fare tipo una frase di questo tipo io chiedo ora che la geometria sacra di genesa cristal venga attivata nella massima armonia di questa casa oppure di questo giardino oppure di questa stanza bene oppure per me nome e cognome quindi nella massima armonia di ok e vostro nome cognome oppure io chiedo ora che genesa cristal espanda la sua energia di trasmutazione e armonizzazione per me per questo luogo per la mia famiglia e in tutto il suo raggio di azione oppure dopo ne parleremo dei bigliettini no con degli intenti dentro io chiedo ora che genesa cristal accolga i miei intenti potenziandoli con energia pura di amore e abbondanza della massima armonia ed equilibrio per tutto il tempo necessario alla loro manifestazione ricordatevi sempre ragazzi di ringraziare la genesa alla fine di ogni richiesta che gli fate allora oppure anche per esempio un'altra quando gli avete dato un nome per esempio qua quando gli avete dato il nome dite nome ok quindi il nome prenditi cura di me e delle persone che mi stanno a cuore questa anche è un'altra un altro tipo va bene di di frase che potete dire comunque dovete entrarci in contatto con la genesa poi ripeto una volta attivata dalla persona che l'ha comprata che l'ha voluta fortemente in casa poi la possono usare tutti la possono prendere in mano non è come i cristalli che magari sono un pochino più personali ma anche la pentasfera per esempio un pochino più personale le genesa invece possono usarle tutti i familiari vostri figli vostri mariti mogli comunque sia chi c'è in casa la può toccare non porta assolutamente non è che ci attacca tipo come sopra i cristalli l'energia altrui ok qui va benissimo anche se la tocca qualcun altro non succede niente allora procediamo quindi con la genesa abbiamo detto la potete tenere in casa nei giardini vediamo ancora un attimo che trovo altre cose per voi l'attivazione l'abbiamo fatta allora attivazione l'orientamento vediamo ancora orientamento allora il lato triangolare ragazzi lato triangolo è espansivo emissivo maschile e young per tutto ciò che si vuole allontanare quindi posizionata sul lato triangolo per allontanare oppure per inviare energia ad altre persone sempre consensienti mi raccomando sempre con il permesso tipo guarigione a distanza bigliettini di parole magico o intenti normali vanno appoggiati sul lato triangolo è stato visto dopo sperimentazioni che il lato triangolo funziona anche per il proprietario perché vi spiego questo per il proprietario è sempre lato quadrato quindi per te che la compri per te è sempre lato quadrato comunque sia le richieste che fai per te è stato visto perché comunque ragazzi con gli anni ci sono le evoluzioni energetiche no ci sono le prove sempre più persone si avvicinano più studiosi che fanno ricerche è stato visto che posizionandola nel lato triangolo funziona anche per il proprietario sempre che il proprietario però scriva dentro ad esempio se mettete un intento di coppia per esempio dovete scrivere io voglio ok e scrivi il tuo nome cognome data di nascita che ne so che il mio partner nome cognome data di nascita no e il desiderio che vuoi alla fine ok quindi se tu ti metti in terza persona va bene anche il lato triangolo questa è una scoperta anche abbastanza recente è degli anni 2020 2021 anche quest'anno e mi sembra però più 2020 comunque recentissima dopo studi fatti e prove fatte da tantissime persone e anche studiosi quindi volendo volendo insomma potete anche fare questo vi ricordo che generosa crystal è talmente sacra e talmente pulita che non c'è pericolo di energia negativa e non c'è pericolo che se magari vi sbagliate il lato per un qualcosa ci sia un ritorno di negatività di qualcosa toglietevelo dalla testa perché non lavora per intenti negativi va bene quindi non potete mandare del male a nessuno perché non funziona è comunque già semplicemente strutturata in questo modo per fare solo della positività attrarre energia positiva quindi non è proprio possibile possibile con nessun tipo di magia cose strane che uno si può inventare non esiste perché non funziona quindi se per caso avete fatto un intento avete sbagliato il lato il triangolo il quadrato basta non vi preoccupate non vi succede niente lo rifate va bene rifate sul lato corretto tutt'al più ragazzi se proprio vi sbagliate non funziona cioè non è che succede niente non vi funziona magari il desiderio l'intento però non è che adesso vi succede qualcosa ok il lato quadrato dicevamo appunto è più quello femminile ricettivo yin per quello che vuoi attrarre quindi lato quadrato per i desideri che sono per te poi anche per esempio per la vegetazione nei giardini appunto dicevo di findorn in scozia è stato progettato proprio per rinvigorire le piantagioni le coltivazioni le piante gli alberi aiuta il giardino a farti fiorire per bene il giardino eccetera eccetera le piante in casa sono più luminose piene di vitalità allontana anche gli insetti desiderati tra l'altro allontana anche le persone negative da casa tua e se vedi meno visite di qualcuno da quando tu ti metterai in casa una genesa cristal e vedi meno visite di una certa persona o più di una persona è perché erano negative ragazzi così funziona vi allontana tutta la negatività da casa comprese le persone e cioè non è che le persone sono diverse o sono esuli cioè se una persona portava in casa vostra della negatività sta persona sparisce se voi mettete la genesa quindi pensateci bene ok migliora proprio il vostro spazio ambientale ok allora potete mettere dentro di tutto cristalli per purificare abbiamo detto prima oggetti metallici anelli cose varie perché attraggono molta energia negativa caricare i vostri tarocchi cristalli tutto ragazzi tutto qualsiasi cosa vi arriva un oggetto nuovo avete comprato qualcosa dovete purificarlo mettetelo dentro va bene la genesa sul lato quadrato ok è una sorta di purificazione allora adesso adesso vi faccio vedere chi usa le parole magiche di cristiano tenka comunque formule varie allora vediamo un po questa un attimo ve la sposto scusate ma sto un po stretta allora per esempio mettiamo che sia per me quindi posiziono lato lato quadrato allora non è che nessuno vi dice che sbagliate se mettete il vostro intento su un post it quadrato deve essere quadrato il post it di qualsiasi colore e lo mettete dentro va bene lo stesso non è che non funziona però la massima concentrazione di energia di una genesa cristal è al suo metà qua alla sua metà quindi prendete un bicchiere ok di vetro senza disegni stelline cosette varie lo piazzate dentro prendete un bicchiere dell'altezza che possa essere più o meno che vada a finire alla metà della genesa e posizionate sopra il vostro intento scrivere con penna nera e in stampatello gli intenti ragazzi è penna nera stampatello ok per voi sul lato quadrato per altri consenzienti sempre sul lato triangolo ma sul lato triangolo anche te in terza persona va bene anche per te quindi mi raccomando oppure appendete un filo di cotone un filo interdentale un filo di cotone bianco lo appendete però vi cade un po laterale ma va bene lo stesso alla fine perché tutto nel suo raggio diciamo non nell'area la copre tutta diciamo che è un po più comodo il bicchiere ragazzi prendete un bicchiere lo mettete non è che adesso no se no se vi piace di più il filo che pendola fate il filo che pendola io ci avevo messo anche queste e l'avevo no tipo girata così l'avevo gli avevo fatto una cosa no per tenerla dentro ecco vedi che così e stava dentro all'interno pendolava ok si vede pendolava e quindi è andata insomma alla fine no allora quindi se volete prendete il bicchiere dell'altezza giusta e lo mettete lì il post it deve essere sempre quadrato non rettangolare non fogli a cuoricini cose varie quadrato e scrivere sempre con la penna nera e in stampatello che siano le parole magiche o che sia un intento proprio vostro tipo mi servono dei soldi ecco faccio un esempio ok cioè anche anche semplice basta che fatto col cuore e che fatto con la credenza con il crederci ragazzi e se non ci credete dopo non dite perché a quello non funziona a me non funziona allora l'intento è registrato l'universo vede queste cose va bene quindi se l'intento è per ridere perché tanto non ci credi innanzitutto non guardare questi video ma non sarai ricompensato di questa cosa perché tu quello che emana esattamente quello che ricevi e non perché qualcuno ti punisce o l'universo è cattivo va bene è perché tu non ci credi e se tu non ci credi cioè nessuno ti non gli interessa agli altri l'universo non interessa tu dici che non ci credi e l'universo ti crede a te crede che tu non ci credi quindi automaticamente come puoi mettere un desiderio dentro se non ci credi va bene quindi la fede la convinzione come nei video che sono nel mio canale dei decreti i codici sacri lo scrivo sempre fede e convinzione sono diciamo le cose più principali allora la purificazione della casa questo vale sia per genesa che per pentasfera solo che cambia il lato ragazzi la pentasfera dicevo è un'evoluzione della genesa la genesa quattro cerchi la pentasfera sei cerchi più per uso personale ragazzi però anche gli intenti anche qua col bicchiere dentro e bigliettino o fili attaccati va bene lo stesso anche la pentasfera ma vi fa connettere più con le energie superiori ok si può essere usata anche per la meditazione ma anche la genesa però è proprio per chi fa dei lavori molto importanti personali ok tipo per esempio me gli operatori olistici i maestri di reiki i maestri di yoga comunque persone che lavorano fortemente anche proprio diciamo su di loro su di sé su te stessa e la pentasfera ti porta proprio una connessione altissima per esempio faccio anche i mudra per dirvi no i mudra quelli delle mani e mi fico le mani qua dentro ragazzi cioè il mudra qua dentro è una cosa fantastica o anche qua dentro anche qua dentro se volete fare 15 minuti di meditazione così con il mudra mettete le mani anche dentro è questo un altro consiglio che potete fare la purificazione della casa è molto conosciuta per chi ha la genesa ma anche la pentasfera funziona così allora questi oggetti non hanno bisogno di essere purificati mai perché sono già perfetti così ok allora dicevamo ogni casa ogni ufficio ogni posto ha comunque una sua storia ok ha una sua energia potrebbero esserci anche delle larve energetiche negative pensieri accumulati negli anni urla di quando le persone hanno ritirato in quella casa che possiate essere voi o anche altri le paure tante cose ci sono tutte memorie nei posti e negli oggetti ragazzi quindi la più classica e più conosciuta della genesa che funziona e che può essere anche ripetuta è può essere anche ripetuta però all'inizio giustamente voi la comprate fatela intanto una poi nei mesi ne fate altre è quella delle 72 ore per la vostra casa ascoltatemi bene lato triangolo 24 ore lato triangolo questo è il lato triangolo ragazzi 1 2 3 24 ore lato triangolo le successive 24 ore lato quadrato le successive ancora 24 ore lato triangolo di nuovo quindi triangolo quadrato triangolo 24 ore 24 ore 24 ore e sono 72 ok e non accorciate le 24 ore ragazzi e magari ci sta 10 minuti di più non fa niente però assicuratevi che quei tre giorni che decidete di fare questa cosa voi siate in casa perché la dovete fare voi non ve la può far girare non chiedete agli altri di girarvi la genesa o la pentasfera fatela voi il proprietario deve fare questa cosa la l'ha iniziata il proprietario la deve finire il proprietario quindi assicurati che l'orario cada esattamente nelle 24 ore quando sarà l'ora che tu sposti la genesa che sia tu a spostarla quindi assicurati di essere in casa tu è una cosa che devi fare tu allora si può ripetere ripete lo dico anch'io mi ripeto come la pulizia allora si può ripetere anche dopo giorni o dopo mesi fate come volete abbiate molto rispetto questi non sono bancomat non sono cose magiche che uno dice realizza i desideri ok molto rispetto molto rispetto non chiedete troppo fate delle piccole prove passo dopo passo allora quindi dicevo per noi che la usiamo e che l'abbiamo comprata sempre quadrato per gli altri sempre triangolo ma vi ripeto vi ripeto ancora che in terza persona potete mettere voi stessi anche nel lato triangolo no e mettere anche altre persone insieme a voi nel lato triangolo eh allora vediamo ancora qualche altra informazione per voi allora ecco qua realizzazione di intenti sogni desideri obiettivi dicevo il post it vale anche per la pentasfera questo ragazzi eh non scrivete le cose non voglio non voglio più questo non mi interessa avere questo ok solo io voglio io desidero queste sono le frasi ok adatte se avete dei testimoni di qualcuno foto capelli oggetti appartenenti alla persona potete inserirli va bene quando mettete il bicchiere il bicchiere col foglietto mettete anche sopra ho attaccato qua dietro tipo un capello qualcosa della persona che vi interessa anche il vostro è anche il vostro ragazzi e sì appunto questo qui se l'oggetto una cosa che molti mi chiedono spesso se l'oggetto è troppo grande e non entra in genesa magari avete una genesa un po' più piccolina non importa mettete l'oggetto e sopra la genesa va bene o la pentasfera quindi l'oggetto e sopra ci mettete la genesa o la pentasfera non importa eh allora solo un intento per volta solo un desiderio per volta un'ora ok parlo del bigliettino ragazzi è chi mette il bigliettino solo un'ora poi molti gli piace farlo tutti i giorni uno nuovo lo facciano non c'è problema tanti lo usano per sette giorni massimo sette giorni lo stesso biglietto poi lo bruciate qualcuno lo butta semplicemente ragazzi come vi dicevo prima del sbagliarmi non sbagliarmi fate voi se vedete che non va funzionato probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo oppure avete sbagliato qualcosa le prove bisogna fare ragazzi le prove quindi vedete di solito dopo sette giorni questo foglietto si brucia ok si brucia e c'è chi lo butta via pazienza cioè se però gli ha funzionato allora va bene lo stesso no anche quello c'è quindi dicevo i testimoni anche i testimoni mi raccomando dentro attaccati anche al post it se dietro avete proprio il post it adesivo eh quindi allora ci sono delle cose gravi per esempio delle cose per le urgenze diciamo eh le urgenze possono essere trattate ok vediamo un attimo che trovo il perché mi ricordo proprio di questa cosa ecco me l'ho persa ragazzi allora ci sono delle delle situazioni di urgenza quindi sul lato quadrato solo per voi però solo per voi sul lato quadrato potete prolungare i tempi di posa dei vostri intenti e desideri con o senza testimoni in quei casi che ritenete importanti o gravi che vanno risolti entro una certa scadenza quindi prendete il post it la sera prima di andare a dormire e toglietelo la mattina quindi vedete che abbiamo scavalcato l'ora perché più di un'ora non si può fare però casi urgenti e solo per voi sul lato quadrato casi urgenti solo per voi sul lato quadrato la sera andate a dormire mettete l'intento la mattina lo togliete non dimenticatevene quindi una posa di tutta la notte questa qua è si può ripetere per diverse notti finché non arriva la data di scadenza di quella cosa ok che avete chiesto oppure per vedere un miglioramento della situazione va bene mi raccomando questa cosa potrebbe essere buona per cose che proprio un attimo uno non può aspettare che sia le 24 ore le cose quell'altro il giorno giusto la cosa giusta ci sono delle urgenze ragazzi che a volte vanno fatte quindi allora fatemi prendere anche un'altra cosa allora per esempio la genesa comunque abbiamo detto quasi tutto no penso proprio tutto la pentasfera la pentasfera è sempre anche lei un dispositivo tridimensionale ragazzi però come vedete ha il pentagono vedete il pentagono eccolo qua questo è un pentagono a cinque lati che è il suonato naturale di posa della genesa il lato naturale di posa è il quadrato quando la tenete in tendoli così lì sopra della pentasfera è il lato appunto pentagono anche essa emette energia organica sei anelli amplifica le facoltà extrasensoriali di chi ne è in possesso e purifica l'ambiente circostante ok è un'antenna che attrae purifica e amplifica l'energia si basa anch'essa sui principi della fisica quantistica e non ha effetto solo sul corpo fisico ma anche sui campi aurici dell'energia sottile allora anche questo appunto dicevo è diciamo della geometria sacra ed è una evoluzione della genesa è nata prima la genesa a quattro cerchi e la pentasfera a sei cerchi allora vediamo ancora diciamo che potete fare le stesse cose più o meno della genesa perché comunque potete mettere anche qui dentro degli intenti ok potete anche impilare ok impilare la genesa la pentasfera la genesa sopra fare delle torri fare delle torri io le faccio delle torri a volte con genesa pentasfera genesa eccetera vi ricordo che non vanno protette non hanno bisogno di attivazione perché sono già quando vi arrivano già perfette ok la dovete attivare semplicemente per il fatto che siete i proprietari ok quindi è la stessa cosa insomma e dare un nome chiaramente anche alla pentasfera ok perché anche la pentasfera è di energia sacra comunque sia e devi dare un nome comunque sia perché è molto importante purifica anch'essa la casa può essere comunque messa sia per il giardino anch'essa per le piante per aiutare anche gli altri della famiglia cristalli però ricordo che è un pochino più personale per quanto riguarda rispetto della genesa ok diciamo che ecco anche essa ha un raggio di azione che varia allora inizia tipo da 500 metri fino a un chilometro e mezzo per una pentasfera di 32 centimetri come questa 31-32 centimetri arriva a un chilometro e mezzo va bene quindi più o meno questa qui la potete usare comunque anche per le meditazioni eh per la potete mettere in mezzo alle gambe sulle mani la potete tenere sulle braccia la abbracciate anch'essa dentro può purificare qualsiasi cosa cristalli cose della casa vostra l'attivazione è uguale ragazzi l'attivazione è la stessa cosa eh aspetta un po' che prendo anche quest'altra cosa qui allora l'attivazione della pentasfera ragazzi è uguale no cioè la prendete la tenete gli date il nome gli chiedi le formule proteggi questo proteggi quello i nomi la casa l'ufficio quello che è ok ragazzi allora io vi ho detto tutto ricordatevi le genesine da portare con voi o da mettere in macchina o negli uffici dov'è se ve le fate fare da un costruttore bravo ve le fate anche diciamo personalizzare con cristalli all'interno ecco qua dentro c'è un cristallo ialino su questa c'è un quarzo rosa ok sono carinissime anche addosso queste sono tipo 3 cm 3 cm e mezzo piccoline ragazzi io spero tanto che vi sia piaciuto questo video fatemi sapere cosa ne pensate se avete le vostre genese e le vostre pentasfere bellissime ragazzi ne parleremo vedete sul mio video anche quanti video ho fatto anche con oracoli parole magiche eccetera che dirvi vi ringrazio di essere stati qui con me su quinta dimensione letture e vi aspetto presto in un prossimo interattivo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti